Sì, Quara sente ancora male. Abbiamo provato, ma come arriva a quel livello di tensione, di velocità o di depressione muscolare, sente male, allora non sarà della partita. A noi naturalmente questo ci dispiace, però quello che è capitato in queste due partite dimostra che siamo una squadra e non un insieme di singoli. Sì, però Quara lo vogliamo a disposizione il prima possibile, ma abbiamo visto che ci si può fidare anche degli altri perché hanno dimostrato che hanno altrettante qualità. Magari non di quel livello lì, probabilmente perché se tutti lo individuano come il nuovo grande calciatore del calcio mondiale, però poi anche gli altri sanno eseguire quello che ci vuole per far parte del Napoli.